Il Pescara sfata il tabù dell'Adriatico ma quanta sofferenza al cospetto di un'ottima fermana che soprattutto nel primo tempo ha dilapidato ghiotte occasioni da rete. Finisce 2-1 per i Biancazzurri che ottengono il secondo successo casalingo stagionale palesando però diversi problemi. E martedì sera seconda gara casalinga con il Modena. Auteri deroga dal 3-4-3 passa al 4-2-3-1 mandando in campo una formazione più equilibrata. In campo dal primo minuto infatti frascratore Diambò, Bocic e Ferrari. Gli ospiti di Misteriolfo con tante assenze rispondono con il 3-5-2. Parte meglio la formazione marchigiana vicinissima per due volte al vantaggio. Al quinto Nepi in area chiama Di Gennaro ad un grande salvataggio. Collazione che poi prosegue con Pannetteri che conquista un pallone al limite andando poi a calciare a due passi dal portiere di casa strepitoso nella respinta. Pessimo approccio di gara del Delfino che si vede al dodicesimo con una punizione dai 20 metri di Memouchai parata senza problemi da Ginestra a terra. Pian piano i biancazzuri riescono a spostare in avanti il baricentro del gioco anche se dietro balla la difesa abruzzese con Nepi che al diciassettesimo fallisce un gol praticamente fatto. La partita regala continue emozioni con la squadra di Auteri vicinissima all'1-0 con Ginestra che però dice no a Ferrari con la palla che tocca prima il palo e poi la traversa della porta marchigiana. Un lampo per la squadra di casa in difficoltà al cospetto di una fermana pimpante ben messa in campo e che si rende ancora minacciosa al 34esimo con una punizione dal limite di Pannetteri che chiama Di Gennaro all'ennesima parata salva risultato. Al 41esimo il Pescara però la sblocca punizione di Pompetti e tocco con la mano in area marchigiana di Alagna, Longo di Paola, assegna il rigore che Ferrari trasforma regalando il vantaggio alla sua squadra. Nella ripresa al quarto Biancazzurri il primo assalto in gol con il raddoppio di De Marchi che servito in area da Memusciai non perdona per il 2-0 Biancazzurro. Festeggiato dai compagni l'ex Virtus Verona con i marchigiani che però non ci stanno e che trovano al sesto con Nepi sul rigore segnato dal direttore di gara per un tocco con la mano di Frascatore la rete del 2-1 che riapre il match. I Biancazzurri sono però più vivi rispetto al primo tempo con Memusciai che al 14esimo direttamente su angolo colpisce la traversa della porta di Ginestra. Partita molto viva in bilico con Auteri che al 23esimo manda in campo Zappella per Dianbo e con i padroni di casa che cercano di fare la partita con gli ospiti questa volta meno propositivi rispetto al primo tempo. Al 25esimo spunto di De Marchi in area con palla a lato poco dopo entrano sul terreno di gioco Rauti e Dursi per Bocic e De Marchi. I marchigiani giocano però meglio con un fraseggio che crea problemi alla squadra abruzzese. Auteri si sbraccia dalla panchina con un errore poi di Ginestra che viene salvato sulla linea da Rossoni dopo il colpo di testa di Rauti. Al 36esimo ancora Pescara con Ginestra che salva. Spingono Memushai e compagni con la fermana che accusa un po' di stanchezza non riuscendo a creare più problemi al Delfino che porta così a casa tre punti sofferti ma preziosi.